Questa settimana si osserva un'ulteriore lieve diminuzione del numero di casi di Covid-19 nel nostro paese e il tasso di incidenza si fissa a 45 casi per 100.000 abitanti. Aumenta lievemente invece l'RT, siamo a 0,94, comunque ben al di sotto della soglia epidemica. Il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva è rispettivamente al 5,2% e all'1,4%, quindi sostanzialmente stabile rispetto alla scorsa settimana. Serviamo quindi una tendenza globale alla stabilizzazione e un basso livello di circolazione virale.